Buonasera a tutti i telespedatori di Genova Talk, sono Francesca Sanguinetti e mi trovo nella sede Schenker di Genova, scuola di inglese conosciuta a livello nazionale. Oggi è una giornata molto importante per la comunità schenkeriana di Genova in quanto farà ingresso un nuovo studente, uno studente un po' particolare perché è una persona nota a livello nazionale e internazionale e infatti grazie a questa sua notorietà oggi qui, questo personaggio di cui andremo a scoprire l'identità tra poco, firmerà la campagna di comunicazione Schenker intitolata Follow the Leader, di cui adesso ci parlerà Orieta Orlandini, responsabile dell'ufficio stampa di Schenker Roma, arrivata qui a Genova proprio per l'occasione. Buonasera, chiediamo per i nostri telespedatori qualche informazione in più rispetto a questa comunicazione, a questa campagna di comunicazione Follow the Leader che tra l'altro non interesserà soltanto Genova ma anche le città di Milano e di Torino. Ma vogliamo svelare intanto chi è il personaggio o lasciamo ancora i nostri amici in sospeso? Come vuoi, scegli tu. Allora cominciamo dal personaggio. Il personaggio è il leader della nazionale pallanuoto che è Maurizio Felugo, quindi molto conosciuto insomma qui sul territorio e che ha vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Londra quest'anno. Allora la nostra storia comincia così, da una parte c'è Maurizio Felugo che ha deciso di approfondire la conoscenza dell'inglese, lo sa già però insomma ormai si vuole preparare a una carriera internazionale e vuole conoscere bene insomma la lingua ed estregiarsi bene all'estero e quindi ha scelto Schenker per studiare l'inglese. Dall'altra parte c'è Schenker che quest'anno proprio ha una campagna pubblicitaria che ha come claim Follow the Leader, perché è un linguaggio insomma dei giovani, followers, ma allo stesso tempo puntiamo molto sulla leadership e sugli atleti. Abbiamo cominciato questa campagna con la nazionale di kayak e poi adesso si aggiunge questo nuovo testimonial, Maurizio Felugo, leader della sua squadra, capo cannoniere appunto della Prorecco e poi ci sono altri atleti che hanno già espresso il desiderio anche di studiare con noi e quindi immagino che questa campagna avrà altri campioni. Che cosa accomuna Felugo allo Schenker, al metodo Schenker? Il fatto, diciamo una disciplina che è in comune, perché anche chi studia allo Schenker sa di impegnarsi in un percorso di disciplina che richiede determinazione, molta volontà e costanza e quindi parliamo la stessa lingua.